e più degli altri i due paesi. Quasi in un profondo percorso terapeutico che induce a guardare più alti ma anche più biechi sentimenti umani a rifletterli. Luisa Del Verme, curatrice della Kermess. Noi cerchiamo di divulgare i racconti legati al mito e alle nostre storie identitarie senza rinunciare al rigore scientifico ma appunto con un linguaggio che possa arrivare a tutti perché un progetto culturale deve avere uno spazio importante anche nel mondo della divulgazione e non è giusto che queste meraviglie delle opere letterarie delle nostre più antiche tradizioni siano a conoscenza soltanto degli studiosi. È bello che la gente possa ascoltarli senza quell'aria da Luna Park che talvolta assumono le fiction o le grandi produzioni cinematografiche. Nel primo appuntamento Peppe Barile ha letteralmente trascinato nell'Iliade gli ospiti del Nilo Museum Shop. Altri due gli incontri previsti. Nei prossimi due giovedì di ottobre ascoltiamo l'attore protagonista. Il metodo più semplice, però è quello che comporta più sostanza da parte di chi lo fa, è quello di fare leva sull'immaginazione anziché sul proporre delle immagini già confezionate. Quindi attraverso le parole, le parole sono quelle, cioè se parliamo di Omero sono quelle. Possiamo cambiare la traduzione e quindi noi abbiamo scelto una traduzione più efficace, più moderna e più comprensibile perché è un racconto che anche se uno non ha mai letto l'Iliade lo capisce dal racconto che si fa. L'idea nostra è quella di riuscire a far emergere delle immagini nella mente delle persone come se guardassi delle cose ad occhi chiusi, da parte di chi racconta, un po' come l'Aedo dell'epoca, è come se uno andasse in trance, come se fosse quel racconto che esprime.